ad accogliervi sarà conegliano bentrovati al meteo la pressione rimane bassa l'anticiclone non riesce a prendere possesso del nostro territorio ma il tempo sarà ancora tutto sommato buono vediamo il dettaglio sul veneto la grafica di mercoledì 7 giugno evidenzia un contesto decisamente soleggiato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in montagna nel pomeriggio saranno probabili dei rovesci o temporali a carattere sparso temperature in aumento minime tra 15 e 18 gradi massime tra 24 e 27 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia e giulia dove sarà soleggiato con cielo velato sulla zona montana anche in questo caso non si escludono dei temporali specie nelle ore pomeridiane temperature minime sui 14 17 gradi all'incirca massime intorno ai 24 26 gradi infine diamo uno sguardo la situazione del trentino alto adige dove avremo un'alternanza di nubi e tratti soleggiati come ci mostra la cartina con una maggiore probabilità di piogge nella seconda parte della giornata temperature minime intorno ai 15 18 gradi massime sui 25 29 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia ad accogliervi sarà conigliano grazie a tutti i primi e Grazie.